La fase congressuale del Partito Democratico non inciderà sulla tenuta della maggioranza a Nocera Inferiore. Il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Giuseppe Arena, replica le riflessioni del rappresentante di Nocera al centro, il consigliere Giovanni D'Alessandro, che vedeva un dualismo tra la corrente che fa capo al sindaco Paolo De Maio e quella che fa riferimento al presidente del Partito Nocerino, Salvatore Arena. Il capogruppo Dem ribatte alle dichiarazioni dell'ex candidato sindaco. Sento di rassicurare quei consiglieri comunali che sono entrati a gamba tesa nei confronti del Partito Democratico. Possono stare tranquilli rispetto alla tenuta della maggioranza, scrive in una nota Arena Junior. Il capogruppo del PD non rinnega che ci siano molteplici intelligenze all'interno del Partito Democratico, ma rilancia Tali intelligenze hanno la maturità e la consapevolezza di confrontarsi e di individuare i giusti percorsi. Ne sarebbe prova l'indicazione, oltre sei mesi fa, al tavolo della coalizione di un unico nome, ovvero quello dell'attuale sindaco, scelta che si è dimostrata la più giusta, sottolinea Arena. Le analisi di D'Alessandro, analizza il capogruppo Dem, non gli sembrano per nulla opportune e pertinenti, in quanto entrano nelle dinamiche e democratiche interne ad un partito che esprime il sindaco della coalizione dell'intera città. Giuseppe Arena consiglia a quanti si affannerebbero ad esprimere giudizi sul PD di individuare altri argomenti. Chiosa, il capogruppo Dem, facendo un riferimento alla dialettica interna al suo partito. In democrazia, dichiara, c'è fortunatamente dibattito e confronto per individuare con maturità i giusti percorsi e le giuste soluzioni. Questa è democrazia ed è l'unico metodo che si pratica all'interno del Partito Democratico, scrive ancora il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Noceare Inferiore, Giuseppe Arena.